buongiorno 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 sabato sono le otto si va all'inviate c'ho un sonno della miseria ma ragazzi qui è dura è peggio che trovare un lavoro di giorno qui non si può mai perdere la possibilità di essere sul pezzo ok si parte siamo al parcheggio guardate che brutta gente che si incontra allora in diretta da gorgo radio ma fantastico per l'estate il parcheggio è già bello pieno e via si va via si va che brutta gente che si incontra è il momento degli suoi c'è il momento momento è il momento fai riprese riprendiamoci eccoci qua riprendiamoci tra di noi ciao cara ti saluto ciao non guardatevi ciao aspetta che diamo subito un bel 5 alla chloe aiuto che casino vai chloe vai ciao cari che bello oggi ciao davide ciao forza subito le grandi novità la roba più migliore la roba più migliore preparato un bel glicine oh glicine glissine glissine quella roba lì glicine sono belle io sabato scorso non c'ero ma cioè le vetrinette sono fantastiche hai visto mamma mia un bel record e invece di questo con le fasi lunari bello grazie poi avevo un bel bel matic bello no si è andato via stamattina meglio no si è andato via uno viene fin qui la mattina presto per il livello qualche crono carica manuale e belli 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 questi crono no dai ben sicura classico c'è la bolla c'è la bolla altro che altro che moose watch ormai c'è la bolla del sicura e qualche 77 50 miler vetta questo qua è nuovo anche lo jungas qua è nuovo che non ci si sbaglia mai ok va bene l'abbiamo già ripreso chiamate davide 7 1 3 2 3 7 3 è una volta la chiamata roma 3 1 3 1 ok eccoci qui banco del dario con della gente no no se no ma buttati vuoi fai vedere il vero appassionato che si tuffa chino sul sulla ricerca dell'orologio ciubi abbiamo della robina della robina bella è questo mega c'è anche il tifani non tifani ormai non può più mancare poi è scappiata si ma è sicuro che funziona un bel movato qui gli svegliarini è beccato uno zodiac ma dalla borsa della rumenta si è uno zodiacchino è un quadrante guilt di colore è già bello è già bello no no diciamo le cose come sono cammina anche o vagamente è ciò che serve vagamente requisito ma no ma già la borsa più figa questa qui questa è la borsa veramente della fuffona ci sono anche tasca cosa vuoi di più su le novità dario su allora cosa c'abbiamo di innanzitutto ho visto questo mega qua che non so se era se era già presente la settimana scorsa i master si master soccer soccer e non è di plastica no no questo qui non è swatch ma scuola ma sei indietro sono rimasto indietro hai ragione bisogna che mi adegui eh eh sì bello ma che bello che è soccer 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 perché hai 90 minuti perché hai fatto per gli abitri di calcio il contatore 45 minuti e 45 beh però è molto bello ed è molto particolare con l'861 al calibro molto particolare molto particolare anche era girevole interna giusto per capirci l'ordine di grandezza di uno è qui sembra sui 28 ci sta anche perché è la prima volta che lo vedo è assolutamente io ho avuto uno in passato tu come sempre porti sempre degli orologi molto brutti al polso si questo qua è veramente questo qui è lawyer swatch e swatch anche lui che bello questo lawyer qui ragazzi questo è segnato all'esercito norvegese l'aeronautica quelli che vanno molto d'accordo con i russi anche loro luftswaret vedi che c'è l'assegnazione sul fondello dai perché oggi parliamo un po' di orologeria seria eh vediamo se si riesce a inquadrare sì sì eh beh ragazzi gli assegnati già solo per il fatto che sono assegnati flyback ritorno in volo vabbè è meraviglioso non ti dico non ti chiedo cosa vale quell'orologio lì perché perché va bene poi di nuovo cosa ci abbiamo ah il carriera ah col buren ti stai carrierizzando ultimamente c'hai l'avia che sembra avevi il Porsche design forse c'hai lawyer eh guarda qui guarda poi c'è cronostop omega però cronostop omega come se niente fosse dai dai ok invece mi chiede chiedevano ieri in live il seiko crono quanto costava ah il lufo quello chiedo 600 600 e invece poi c'è neptune 600 metri valvola elio roba nuova scatole garanzia carino poi c'è di nuovo questo è un ritorno come mai chissò col 320 il mio cliente ha preso un'altra cosa me l'ha lasciato da vendita te l'ha ridato poi ah lo snorkel piccolino qua lo snorkeling 666 il bulovino ah il bulovino si bello ma è praticamente uno dei predecessori dell'introvabile milship ormai questo qui è un anni 60 si si va bene e gli acutronici qua come sempre si si beh vabbè dai tanta roba e poi anche lì alzate il biribau e venite a trovare il il Dario il Davide eccetera proseguiamo un po' di mercatino vario Flavio eh eh il Worschex non l'abbiamo fatto però facciamo con gli altri no io c'ho sempre il solito già escilo io non è che non si senta orologi come lo avete eh ce n'hai 5 o 6 però già no di più di più e allora fai però mi piace questo qua è molto bello il Mühle Glashütte sembra che aveva detto abbiamo fatto la trasferta abbiamo fatto la trasferta abbiamo fatto la trasferta all'inviate e come sapete qui a qui stanno il modernariato eh no stavo parlando con Flavio si abbiamo fatto la trasferta alla Igelecutre e penso che prossimamente ci siano altre trasferte sempre con con l'orologio si prima o dopo Glashütte bisognerà andarci ragazzi perché Glashütte è tanta roba eh ho un telefono telefono pubblico vedi che c'è cosa per metterlo per appenderlo credo che dovrebbero essere città si dei posti in cui tu qua c'era una telefonata si se non hai telefono orologini vari Flavio ha trovato il Moose Watch introvabile ma lui l'ha trovato qui orologi e cinturini oh bene va bene gli orologi ragazzi però insomma che dici Flavio un bel cappuccino è bello uno dei pochi gioie che ci restano della vita esatto cappuccino briocina eh ragazzi è dura eh ci avviciniamo a Mirko in caccia bam 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 vai vai la la moda Swatch colpisce ancora c'è un bellissimo Moose Watch rosa che è uno spettacolo fatelo comprare dal papà quello rosa oppure quello rosso bianco e rosso papà papà me lo compri il Moose Watch Moose Watch no papà me lo compri il Moose Watch ti piace solo quello? scusi cinturini ecco da ecco da ma non no ti sei indicare un negozio se lo metti abbiamo ancora in trovo un negozio per un'orogeno aspetta ma non li metta allora perché lì poi ma per comprare c'è uno no vabbè no che non lo sanno vogliono l'indicazione da parte mia che gli compro? al quarzo no dai per gli comprare questo ma che bello un jean con queste vado 200 euro bello con questo c'è la mia moglie è contentissima Osana guarda questo qua ho il picot nuovo di pacca 200 euro te lo do automatico che orologio hai su? dimmi che non c'è l'orologio porca misera è sempre così voi ciabattini non ci avete mai ci avete sempre i buchi nelle scarpe mi sono svegliato di corsa ma questo è questo e Virko ha comprato lo swatch Mirko ci vede lungo eh Mirko le sa queste cose fa vedere escilo bene qui si impara anche l'italiano con questo canale qui bellissimo intervistiamo la la nuova beneficiaria di questo orologio cosa mi dici Chloe? è bellissimo è è guarda che c'è un papà bravo ok va bene brava Chloe vieni a cambiare oh watch check signora oggi cosa indossa? è dal box e poi dicono che non c'è la bolla swatch eh? abbiamo messo al contrario qualche bolla e beh è comodo eh sì comodo anche se sei un po' miope qua vieni da dio eh perché lo fotografate? cappello cappello perché lo fotografate? eh perché lui lo sa perché mandiamo tutto alla finanza adesso ci mandano ci mandano quelli della finanza dice andate a vedere cosa succede arriva il momento in cui uno capisce che se ne deve andare perché quando ti scrivono Luca sgomberi eh eh devi andare e comunque Luca sgomberi qui c'è il numero di telefono se avete da sgomberare cantine eccetera dategli un colpo di telefono ok passaggio ulteriore non è che possiamo subito andare a mangiare è finito il mercatino delle limbiate e adesso andiamo a comprare qualcosa per fare la paniscia un salame eh eh ragazzi mattinata mattinata quasi finita perché adesso siamo appunto alla badia che come vi dicevo è il posto dove il giorno 10 ci troviamo tutti quanti per il pranzo eh orologero mi raccomando non arrivate troppo presto e non venite giù con dei banchetti complicati perché è una cosa tra amici venite giù con il rotolo con il soprabito con appesi dentro gli orologi come i guardoni eh siamo appunto appena entrati all'ingresso della badia e qui c'è la piazzetta dove ci troveremo ve la rimostro guarda come cammino veloce e intanto vedete c'è Flavio lì che compra le uova sì perché si va lì si mettono si mette la moneta e si compra le uova in questo sorta di serv service questo appunto è la piazzetta dove il giorno 10 ci mettiamo vedete bene che non ci sono appoggi da tavoli e cose così sì c'è qualche qualche scalino uno si mette sugli scalini ma poi insomma poi prosegue tutto all'interno quando andiamo a mangiare ed eccoci qui acquisto uova vedete lì ci sono le uova uno se le impacchetta lì c'è ogni uovo 0,35 dal produttore al consumatore qui quando uno vuole conoscere il sedere da cui escono le sue uova può venire qua e appunto qui è dove veniamo a mangiare ve l'avevo già spiegato vediamo cosa c'è oggi da mangiare questo menù di Pasqua cappello del prete coscia d'anatra torta di mele carpaccio paniscia risotto tipico noverese gnocchi piemontese a sugo d'arrosto gnocchi con l'erborinato di capri taglierina e funghi porcini e insomma e per predisporsi al pranzo un assaggio di grappa all'uva passa Flavio prendi la tua bella grappetta su saluta ragazzi saluta i testimoni del tempo e zone limitrofe e apre prediando le digestive mammaria va bene direi che abbiamo finito basta trovatevi un lavoro di giorno